La neve e il gelo di questi giorni e soprattutto di queste notti ha trovato ancora senza casa una donna terramana di 60 anni e sua figlia che oramai dormono in auto da oltre due mesi. Il caso è stato nuovamente segnalato dal segretario del SICET Antonio Di Berardo, questo a seguito dello sfratto dalla casa ATER. In occasione dello sfratto ci fu l'impegno diretto del sindaco di Teramo Gian Guido D'Alberto e del commissario ATER Nicola Salini. Il risultato è che ancora più di due mesi e dieci giorni dal blitz delle forze dell'ordine le due donne non hanno ancora un alloggio. Spiega il sindacalista, se non hanno case disponibili ricorrano all'affitto di una casa privata. Con lo sfratto esecutivo è stato eseguito un atto di violenza e non è stata garantita dal comune un'alternativa, un passaggio da casa a casa. La donna e la figlia ancora oggi dormono dentro un'auto fornita dall'ex marito. Le intemperie e il freddo di questi giorni le stanno mettendo a dura prova. Dormono ranicchiati sui dididi della Fiat 500. Al mattino vanno a lavarsi nell'abitazione di un'amica. La notte accende il motore della vecchia 500 per razionare il riscaldamento. Si addormentano le piegate sotto una coperta di lana. Vivono così vagando continuamente da una parte all'altra. Capita che qualcuno ogni tanto offra ma solo per qualche giorno ospitalità. Prima di Natale hanno dovuto abbandonare un vano di un'abitazione messo a disposizione da una conoscente. Il SICET è al lavoro per cercare di trovare una soluzione. Non c'è più tempo da perdere. Coinvolgeremo altre associazioni degli inquilini. Di certo questa storia non finisce qui. La casa non è un lusso né un diritto. È lo sfratto senza alternativa o una violenza. Conclude il segretario provinciale Antonio Liberardo.